La giacca è una giacca bellissima, pulita, doppio spacco, che riprende proprio la classicità dell'abito da uomo, da cerimonia. E' bellissimo anche il nostro bel collo a lancia, che va con una linea morbida a enfatizzare quasi un collo a scialle. Quindi si riprende anche il discorso un po' a lancia, perché vedi che ha questa la forma un po' a punta, che riprende proprio il discorso della lancia. Molto bello questo discorso del collo a scialle, che va a enfatizzare a ricordarci lo smochine. Lo smochine è proprio il classico abito da sera. Sposandosi di pomeriggio verso la sera, questo potrebbe essere un bel richiamo. Infatti come le ho detto, il matrimonio sarà di sera, è un età di pomeriggio, quindi potrebbe... Potrebbe essere una bella idea. Qua abbiamo questo colore molto bello, e questo te lo potrei consigliare da provare. Questa è una tonalità melangiata sul grigio, oppure molto bello, molto estivo, anche la tonalità del blu, che è un po' il tema anche... Il blu non è... Sempre quel discorso del nostro Gd è ben bobbinato. No, vorrei rimanere... Un po' più sombrio. Sì, sono anche un po' timigiano. Un senso esagerare. Sì, esatto. Perfetto. Ti va di provarlo? Ma... Magari, guardi, provo la giacca... Guarda, io ti consiglierei di provarlo poi tutti insieme, prima di vedere soltanto la giacca, già che sei in ballo, che stai provando il capo. Proviamocelo tutto, è molto importante, perché qua stiamo parlando anche di un bel pantalone, di una visibilità bella asciutta, qua in questo caso stiamo parlando anche di una bella fisicità. Quindi con queste linee di pantaloni vanno a valorizzarti molto. Quindi ti consiglio proprio anche di vederlo poi addosso e di sentirti proprio anche il tessuto, dato che il tuo problema un po' iniziale era proprio il fatto di avere un capo bello fresco. E questo potrebbe essere l'idea di va? Da, valutiamolo insieme. Bravissimo. Grazie.